In dietro, aiuto! Guardie! Assassino! Assassino! Guardia! Guardia! Stiamo lontano! Ora vediamo di che pasta si è! Guardia! Sono tutti fatti! Andiamo! Andiamo! Dio, perdonami! Cosa ho fatto per meritarvi questa punizione? Mamma mia! È terribile! Devo chiamare aiuto! No, meglio andare a casa! Un'altra vittima delle lotte fra fazioni! Finirà mai tutto questo? Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata!